Ciao, sono Valeria e vengo da Roma. A Glamorize vengo con i miei amici e con questi. Io sono una surfista, quindi il mio idolo è Lauren Ever, che è una surfista australiana. Nella vita faccio anche la barman, che è una delle mie più grandi passioni. Mi sono avvicinata al mondo da barman sin da quando ero giovane, invece col tempo è diventata una vera e propria passione. Mi piace tantissimo poter inventare qualcosa di mio per poter trasmettere al cliente una particolare sensazione. Con i drink si possono provare mille alternative. L'aspetto che mi piace più del mio lavoro è poter interagire con i clienti e proporgli sempre drink nuovi. Infatti questo qui è una variante del Negroni e si chiama Boulet Vardier. Il Boulet Vardier ha un barman whisky al posto del gin. Grazie, è stato un piacere conoscervi. Grazie a tutti. Grazie per aver servito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.